Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati nel canale! Scusate l'assenza, ma ogni tanto ci sono dei periodi in cui ho talmente tante cose da fare che purtroppo non riesco a stare dietro al canale, però come sapete, chi mi segue su Instagram pubblico ogni giorno delle storie su Instagram e vari post, quindi mi raccomando seguitemi su Instagram, ma oggi vi volevo parlare di una cosa che non ricordo ma penso di sì di avervi anticipato in qualche video di un mini progetto e sto parlando di un progetto che ha a che fare con delle creazioni. Ho creato una nuova pagina su Instagram, anzi un nuovo profilo Instagram, ovviamente il mio personale rimarrà sempre quello lì, che in in realtà cambiato nome si chiama live.is.fashion18, quindi non più blackfashion18, ma comunque vi lascio tutto qui. Ho creato un'ulteriore pagina dedicata a queste mie creazioni che venderò in tutta Italia e in più consegna a mano a tanto che è la mia città e la pagina si chiama Moonlight Candles, quindi appunto come avrete capito dal nome sto creando delle candele personalizzate. Posso realizzare delle candele personalizzate principalmente bianche, però con qualsiasi tipo di foto o immagine, tipo vi faccio vedere ora delle candele esempio che ho realizzato per delle clienti e delle candele che ho realizzato anche per me. Questa qui che dovrò consegnare a una cliente a Taranto è una candela appunto personalizzata con Johnny Depp in bianco e nero e questo è il sacchettino che vi preparo anche se sto cercando di realizzare dei sacchetti anche a forma di caramella, poi vedrete appunto se mi seguite sul profilo capite di cosa sto parlando. Appunto questo qui, oppure ho realizzato per un diciottesimo questa qui con la scritta tanti auguri per i tuoi diciotto anni Eleonora. Vi mostro, siccome in questi giorni ho venduto tantissime candele, vi mostro alcune foto delle candele che ho venduto che purtroppo qui non ho qui in questo momento, tipo qui metto quella lì con l'unicorno che invece da questo lato ha la foto di questa ragazza che appunto ha fatto fronte e retro della candela. Oppure ancora le candele che ho realizzato per la dottoressa Stefania che ho ordinato delle candele con dei fiori, più una candela personalizzata come questa candela mia appunto con la coroncina con la scritta Fabiana, lei l'ha voluta personalizzare con la coroncina e la scritta dottoressa Stefania che metterà nel suo studio. Questa cosa mi rende molto molto felice. Oppure ancora candele per fidanzati e fidanzate, questa qui classica l'ho creata a base proprio per far capire che posso fare ogni tipo di candela appunto con mini e topolino. Questa qui lo realizzo sempre per me con la scritta Fabi e Tonio che sarebbe il nome del mio ragazzo. Oppure questa qui mi piace tantissimo che purtroppo ho rovinato io l'altro giorno perché sì gente mi è caduta a terra mentre stavo lavorando con le candele, sono un po' troppo sbadata. Comunque questa qui la adoro, è una delle mie preferite in assoluto ed è appunto con la ciambella con la scritta I love donuts. Le scritte con le immagini le realizzo ricerco sempre io ma se voi avete qualche immagine già fatta che vi piace così con delle scritte e con delle immagini me le potete passare senza alcun problema. Però l'importante è che l'immagine sia con sfondo bianco perché comunque io ho più possibilità di far amalgamare la stampa sulla candela per bene. Come per esempio appunto ritornando alla coroncina questa qui avevo lo sfondo bianco quindi non si notano differenze con lo sfondo della candela, cioè con il colore della candela, invece non ci sono problemi per quanto riguarda le foto personali come queste io ho realizzato la mia foto che poi sarebbe la mia foto del canale o la foto del mio Instagram, oh mio dio non mi ricordo. Passiamo all'argomento importante, i prezzi delle candele. I prezzi delle candele sia a misura più bassa che a misura più alta, questa qui è vuota perché la devo ancora fare per una ragazza, tutte e due non hanno alcuna differenza ovvero vengono 5,90. Non ho voluto mettere prezzi magari un po' più bassi o più alti per la differenza delle candele perché comunque questa qui è più alta ma è più stretta, questa qui invece è più bassa però è più massiccia quindi ho voluto dare lo stesso prezzo. Ovviamente per quanto riguarda le spese di spedizione, contattatemi in privato se non siete di Taranto, contattatemi in direct sul mio profilo di Moonlight Candles e altra cosa importantissima, siamo quasi a 1000 seguaci su Instagram, sempre per quanto riguarda il profilo di Moonlight Candles, siamo a 900 qualcosa e ai 1000 seguaci farò un giveaway, metterò in palio due candele, ovviamente il giveaway sarà per tutta Italia, non solamente Taranto, quindi mi raccomando seguitemi su Instagram perché appena arriveremo a 1000 seguaci scatterà subito un giveaway. Io spero che siate diciamo contente di questa mia novità perché io adoro le cose creative sin da quando ero bambina quindi per me finalmente creare qualcosa che piaccia anche ad altre persone, non lo so, rendere felice gli altri tramite la creatività mi piace davvero tanto. Quindi ragazzi e ragazze spero che questa cosa vi possa interessare e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!